Perché in una famiglia in cui è presente una persona con diabete non si parla del problema delle ipoglicemie? Lo abbiamo chiesto a Daniela Donofrio in occasione del congresso europeo di diabetologia a Barcellona. Perché in famiglia si parla poco delle ipoglicemie? Quello che io penso, quello che io leggo, quello che sento è che il diabete sia spesso visto come una colpa. I genitori sentono come una colpa il fatto che i propri figli abbiano il diabete. È una frase comune quella dei genitori di dire perché non è venuto a me. I pazienti dicono è colpa mia se ho avuto l'ipoglicemia, non ho fatto il calcolo dei carboidrati corretto, non ho calcolato che avrei corso, non ho calcolato la vita alla fine perché qualsiasi cosa può succedere e va a influire sulla glicemia. Perché non se ne parla in famiglia? Uno dei motivi, da quello che leggo, perché appunto io essendo moderatore di Portale Diabete leggo i commenti degli iscritti delle persone con diabete ma anche dei loro parenti, uno dei motivi per cui non se ne parla è la paura di non essere compresi. La persona con diabete spesso dice se non provi un'ipoglicemia non puoi capire. La persona con diabete sa perché il diabete è forse l'unica malattia in cui veramente la persona si fa carico di tutto perché decide quotidianamente la dose di insulina, decide quanto mangiare e quindi la persona tende a non delegare agli altri, tende a non delegare neanche il momento dell'aiuto che potrebbe invece assolutamente ricevere, tende a non delegare anche appunto questo supporto psicologico che invece secondo me sarebbe fondamentale.